Allora, vogliamo parlare di unità di misura. Le unità di misura sono essenziali per i tecnici perché consentono di dare un significato ai numeri. Le unità di misura si distinguono in fondamentali e non fondamentali. Con le unità di misura fondamentali si possono poi costruire tra virgolette tutte le altre. Quali sono le unità di misura fondamentali? Le unità di misura fondamentali derivano da un vecchio sistema di unità di misura che si chiamava MKSA che sta appunto per metro, chilogrammo, secondo e ampere. A queste unità di misura fondamentali ne sono state aggiunte delle altre che non sto a identificare in questo momento e tutte insieme vanno a costituire le unità di misura del cosiddetto sistema di misura internazionale SI. Oggigiorno tutti quanti dovrebbero fare riferimento a questo sistema di unità di misura. Ovviamente le unità di misura fondamentali già di per sé possono da sole misurare degli elementi fisici, il metro per le lunghezze, il chilogrammo per la massa, il secondo per i tempi e l'ampere per la corrente elettrica, ma a loro volte combinate possono permettere di determinare tutte le altre unità di misura. Se per esempio vogliamo misurare l'area di una superficie non faremo nient'altro che fare riferimento al metro al quadrato, se vogliamo misurare una velocità faremo riferimento al rapporto fra il metro e il secondo e così via. Se vogliamo fare riferimento per esempio misurare la forza, la combinazione delle varie unità è un pochino più complicata ma sarà data dal chilogrammo per il metro fratto secondo al quadrato. Questa unità di misura diciamo i numeri che identificano le grandezze fisiche a volte o sono molto grandi o sono molto piccoli e quindi l'unità di misura in sé diventa difficile gestire queste grandezze con l'unità di misura fondamentale per cui se ne usano dei multipli o dei sottomultipli. Se io ho a che fare con questa 3.752.000 metri può essere scomodo poterlo dire. Allora anziché scrivere questa formulare diciamo questa lunghezza in questo modo si preferisce usare quest'altra tecnica 3,752 per 10 alla 6 metri. Quindi si fa uso di questa notazione che viene detta notazione scientifica. Analogamente questo può valere anche nel piccolo nel senso che anziché di parlare di 0,03 metri si usa dire 3 per 10 alla meno 3 metri. Anziché utilizzare le potenze quindi la notazione scientifica a volte si fa uso di prefissi che praticamente ne fanno le loro veci. Per esempio se prendiamo questo il numero che abbiamo scritto prima 3.752.000 ovvero 3.752 per 10 alla 6 metri. Anziché dire questa cosa uno può usare un prefisso e dire 3,752 megametri. Anziché usare la potenza di 10 10 alla 6 si usa il prefisso omega che sta per 10 alla 6. Nello stesso modo quando abbiamo usato lo 0,0,03 metri ovvero 3 per 10 alla meno 3 metri si può usare un altro prefisso che è la M minuscolo che sta per milli ok quindi dire 3 millimetri. Quindi i prefissi sono estremamente utili per gestire le grandezze sia molto grande che molto piccole. I prefissi più usati sono quelli che vanno di potenze da 3 in 3 e quindi nel grande abbiamo il chilo che sta per 10 alla terza cioè mille, il mega che sta per 10 alla sesta milione, il giga che sta per 10 alla 9 miliardi, il tera che sta per 10 alla 12. E così nel piccolo abbiamo il milli che sta per 10 alla meno 3 è un millesimo, il micro che sta per 10 alla meno 6 un milionesimo, il nano che sta per un miliardesimo 10 alla meno 9 e poi il picco 10 alla meno 12. Diciamo che con queste informazioni sia delle unità fondamentali che delle loro diciamo combinazioni con l'uso della notazione scientifica oppure della notazione con prefissi si possono gestire tutte le grandezze.